tanti saluti tutti sono Tafna Snowangia 24 giugno del 2021 adesso appena fatto vedere piantine pomodoro da 3 maggio al 24 giugno da dietro l'angolo diventate altre più di un metro questo qua casa mia, questo qua tutti i fiori guardate come diventate fiori, questo qua, questo qua guarda televisione, Tafna, The Booth Lecce, tutto, tutto, guardate diventate grandi fiori, tanti saluti tutti, Corri Campetto di Caccio, Corri Campetto di Caccio Paco Nord, tanti saluti tutti, quella mia mamma che sta mettendo a posto il giardino che dal 1981 mette a posto solo lei, però questo qua è tutto il giardino condominiale, tutto il condominiale, da 1981 mette a posto solo lei, prima metteva a posto anche Ronzoni, Ricco, adesso mette a posto solo lei che è andato via Ricco, mette a posto solo lei, lì dietro c'è piantine pomodoro appena fatto vedere, è comprato 3 maggio 2021 mercato, adesso 24 giugno alta più di un metro, quella striscia là tutto pomodoro, tanti saluti tutti, Tafna, Snow Angels, Snow Angels e Booth, tanti saluti tutti, tanti saluti tutti!